perché siamo un po' a ritardo. Il numero 8, Nino, il numero 8, come si chiama? Nino da Piombino, Nino da Piombino, ci va anche di rima? Nino da Piombino, che è di Gianna, ma entra con Davide. Nino da Piombino, ha un anno in alto a noi, sei molto simpatico, è un applauso Nino, è un bello piccino, pensate, è stato abbandonato per due volte in un anno, ha trovato per fortuna Gianna.